amici di studio sound sono qui con un altro della categoria rap è proprio vestito da rapper no sto scherzando matteo favotto ti sei esibito ha già vinto qualcosa perché nella tua categoria si è arrivato nei primi tre sì esatto sono arrivato secondo della categoria over portando un mio brano edito dal genere country e questo mi ha permesso di arrivare fino a questo livello ma il country fa parte proprio di te qualcosa che allora io amo diversi generi musicali tra il rock e blues però il country ne ho fatto un po una mia scelta musicale preferita non disdegno gli altri gli altri generi che comunque sia porto sempre avanti nelle varie manifestazioni che poi è quel generale di musica fa ballare o da via estremamente da viaggio o in altri casi fa ballare sì è vero è una musica d'ascolto tipicamente in macchina nell'autostrada oppure nelle classiche set da country dove ci sono tutta la coreografia e il tipo di danza per questo tipo di musica che abbiamo un po chiaramente importato dall'america e che quindi fortunatamente che qua in italia si riesce ad avere vedi è piaciuta nonostante poi sia un genere ecco che non sempre portano in questi concorsi quindi in bocca al lupo grazie grazie e grazie grazie a matteo favotto grazie a voi